Annimbale è un progetto di mobilità sostenibile, un gioco, quindi i bambini non vivono questo come un'imposizione, come uno sforzo da fare per giungere a scuola, ma appunto acquisiscono delle sane abitudini di vita. Il gioco consiste nel coinvolgere i bambini in classe. Quanti di voi sono venuti a piedi, alzino la mano? 18? E tu Francesco, come sei venuto stamattina a scuola? Stamattina sono venuto a scuola con un po' niente. Chi ha questo comportamento virtuoso riceve un bollino. Quanti bambini sono venuti a piedi? Al raggiungimento della soglia del bollino della classe, la classe attacca il bollino verde sul serpentone. L'obiettivo è stato pienamente raggiunto. La classe avrà il riconoscimento, un incentivo a fare ad esempio 5 minuti in più di ricreazione o altri piccoli premi affinché questa prassi si diffonda.